Buongiorno e ben ritrovato a Marcello sul canale YouTube di Quantirica. L'argomento che voglio toccare oggi riguarda i mercati in fase laterale. Come di consueto l'obiettivo è di fornire del valore aggiunto al canale tecnico che possa essere di aiuto. Non sono più di 20 giorni fa che ho registrato il video, torno un attimo indietro, dedicato al cambio degli strumenti, video che avevo preparato e distribuito sul canale YouTube di Quantirica proprio con l'obiettivo di rimarcare questa difficoltà perché di questo si tratta nel mercato di sviluppare un movimento che fosse direzionale o meglio negli strumenti finanziari che seguo un movimento che fosse direzionale e questo puntualmente è successo. Ora non bisogna imbarazzarsi, non bisogna continuare a sbattere la testa su strumenti che non si muovono, anzi e ci tengo a sottolineare ricordati bene, i mercati finanziari, gli strumenti finanziari sono creati per generare movimento, non di certo per stare fermi ad aspettare che qualcosa succeda. Il loro obiettivo è generare movimento. Quando non si muovono non sono in uno stato di salute. Questo significa che da parte degli speculatori istituzionali e degli investitori istituzionali manca appetito oppure semplicemente che è un mercato che non ha più interesse nell'essere lavorato. Che cosa significa? Che chi partecipa al mercato non vuole più o non desidera più inserire rischio, in gergo istituzionale si parla di appetito al rischio, per strumento finanziario. Questo è quello che puntualmente è successo negli ultimi giorni, quindi ben venga l'idea di aver spostato o aver concentrato di più l'operatività su altri strumenti, per esempio sulle commodities rispetto agli indici. Allora, passiamo un attimo alla parte pratica. Quello che vedi qui davanti è il mio setup di studio, quello su cui disegno, preparo i livelli, creo tutte le analisi alla mattina, che poi condivido all'interno del gruppo di lavoro per i clienti di Ticker Explorer e partiamo dallo Standard & Poor. Breve e veloce analisi, insomma, è un dato di fatto, è un mercato che è impallato da settimane se non mesi sugli stessi livelli, 4.150 è uno di quei livelloni, quelli tostissimi. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo e che è un motivo che va a rafforzare sostanzialmente quella che è stata la mia idea ancora 20 giorni fa di passare ad altri strumenti. Come si definisce un mercato in fase laterale? O qui si potrebbe aprire una discussione gigantesca, ognuno potrebbe avere la sua definizione giusta o sbagliata, non mi interessa il concetto e che funzioni. Detto questo, io come mi organizza, cosa vado a cercare, cosa vado a osservare? Vado a osservare lo sviluppo di movimento direzionale nel mercato. E qui dirà, ma è grazie al cavolo, per non dire qualcos'altro. Nella realtà dei fatti non è così immediato, perché quando si studia il movimento di direzionale, su che cosa ci si confronta? Sul massimo del mercato, il massimo che ha sviluppato nella giornata. Ora, questo qui è un movimento in cui comunque chiunque potrebbe dirmi, ma il mercato si è mosso. Vero, ma fai attenzione a una cosa. Guarda i prezzi di apertura e di chiusura. È vero che il mercato ha fatto i suoi movimenti nell'intraday, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se tu vai a vedere, la stragrande maggioranza delle chiusure di mercato sono all'interno del range, quindi del massimo o del minimo della giornata precedente. Nonostante questo, il mercato si è mosso, perché ha sviluppato nuovi massimi, poi il giorno successivo lentamente è andato a conquistarli e a farne di nuovi, per poi a ritracciare, eccetera, 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 eccetera. Ecco, in quelle configurazioni per me è un mercato che non è sano. È un mercato che si sta muovendo senza stimolo, senza forza, senza energia, perché non riesce a sviluppare dei prezzi di chiusura forti, distanti rispetto ai massimi e minimi della giornata o settimana o ora, dipende da che cosa stai guardando, precedenti. È un ragionamento che puoi attuare in maniera molto semplice. Io lo abbino al concetto dei volumi e all'utilizzo della piattaforma TKR Explorer, che come sai è la mia fedelissima alleata, nonché creatura da tanti anni, e il ragionamento è sempre quello. Quando il mercato va in palla, va in stallo, non c'è nulla da fare. Tanto inutile star lì a menarsi la fave, la rava, ma continuo a prendere degli stop bene, perché vuol dire che stai gestendo il rischio. Però altrettanto da tenere in considerazione è il fatto di dire, ok, è un mercato che non ha niente da offrire, evito di trattarlo. E attenzione, quando dico evito di trattarlo, perlomeno io personalmente non è che lo prendo e non lo tratto più perché mi sono arrabbiato col mercato, queste sono cose poerini. Semplicemente lo metto un po' in disparte e cerco di preferire altri strumenti fino a che non si riprende e non comincia il suo regolare sviluppo di movimento. Da sempre gli strumenti finanziari americani sono stati ottimi per la parte di trend, ottimi per la direzionalità, adesso non sono più adatti per qualsiasi ragione macroeconomica, economica. Io non entro in questo perché non mi interessa, non ne ho probabilmente neppure le capacità. Fatto sta che da un punto di vista analitico non ci vuole uno scienziato, non ci vogliono due lauree, un master e qualsiasi altra cosa per capire che è un mercato impallato. Ergo non bisogna imbarazzarsi, non bisogna avergognarsi e dire benissimo da oggi io lo standard and poor piuttosto che il Nasdaq non lo tratto e mi sposto su altri mercati. E questo qui succede prevalentemente a chi gestisce l'operatività. Non succede a chi butta dentro gli ordini e poi come ho letto su un forum sui social si tappa il naso e aspetta che vada a target. Questo qui succede a chi affronta il mercato in modo scientifico. Nel momento in cui si impalla si sta fuori dal mercato. Io è settimane che sto tenendo sott'occhio e in continuo monitor questi due livelli 4.140 4.135 sullo standard and poor e tutto questo ventaglio di livelli strutturati di 5 punti in 5 punti. Partire 125 130 35 40 45 50 e via dicendo. Li ho segnati sul grafico. Come mi organizzo? Nel momento in cui il mercato rimane all'interno di quei livelli di prezzo e non sviluppa delle chiusure forti fuori allontanandosi da quei livelli di prezzo io semplicemente non lo vado a trattare. Non lo prendo in considerazione per l'operatività. Adesso ho aperto proprio giusto per l'occasione uno stesso grafico dello standard and poor a un minuto ma generico delle ultime giornate. È vero è naturale che sviluppa dei movimenti intraday ma questo è voglio dire i mercati sono fatti per questo ma d'altro canto non sviluppa nessun movimento di tipo direzionale e il fatto di non avere direzionalità per noi che lavoriamo e immagino anche per te se stai guardando questo video fino a qui che lavori in modo scientifico sul mercato diventa problematico non avere direzione per il semplice motivo che se sbagli una due tre operazioni fai fatica a recuperare fai fatica a dire bene il mercato è in quella direzione adesso spingo. No non succede un mercato che si pianta è solo ed esclusivamente pericoloso. Questo qui è lo standard and poor stesso ragionamento in maniera in scala un po' più diversa perché più volatile sul Nasdaq possiamo vedere anche gli indici europei anche loro sono in palla totale oramai da settimana. Questo qui è il da settimane che è incastrato tra 16.120 e sostanzialmente 15.760. Poi è chiaro che uno lo guarda nell'intraday su un minuto, tre minuti, cinque, 250 ordini e quelli che sono e dice guarda lì che bel movimento ma è altrettanto vero che nella realtà dei fatti non ha fatto nulla e non ha sviluppato una sufficiente forza, una sufficiente energia per dire sì è un mercato che in quel momento lì è in una fase di tendenza rialzista piuttosto che di tendenza ribassista. Quelli che chiamano in America i choppy market cioè un mercato stanco, un mercato mollo, un mercato fiacco sono esattamente questi, sono questi momenti e questi momenti lo speculatore smart e il trader smart li evita anziché dire lo tratto mettendo magari uno stop molto più ampio che è chiaro che fa comodo a tutti, parliamoci chiaro, uno dice metto uno stop a 2000 euro benissimo, tutte le operazioni mi vanno a target, bravissimo, però questo non è trading ma è giusto così scommettere o qualsiasi altra cosa chiamala come vuoi. Se lo affronti da un punto di vista scientifico queste cose qui le devi tenere in considerazione. Quali strumenti seguire al posto di questi dipende dal momento, ripeto ancora una volta, queste qui sono ciclicità di interesse verso specifici settori finanziario, obbligazionario quindi la parte di finanza classica, gli indici, le obbligazioni quindi bond, la parte di FX, lo stesso ragionamento l'abbiamo visto nei tempi passati sulla parte dell'euro dollaro. Chi di voi mi segue si ricorderà che spesso e volentieri l'euro dollaro vai in queste fasi di lateralità dove è sostanzialmente un mercato che non ha spinta, non ha stimolo, non ha midollo e queste sono pericolose. Bisogna imparare ad accettarle prima di tutto, a riconoscerle e a evitarle perché credimi è tanto più proficuo entrare in una fase di mercato stabilizzato in trend piuttosto che dire sto lì tutto il giorno su quel livello a cercare di far partire o vedere se il trend parte ma di fatto non riesce a ottenere niente. Ecco quindi questo piccolo ragionamento sul mercato in fase di lateralità, mercato che non ha stimoli, non c'è nulla da imbarazzarsene, anzi penso che sia un ragionamento adulto dire bene io non riesco a produrre risultato per esempio in questo periodo, in questa settimana, in questo mese sullo standard in pur, sul nasdaq, sul dao, su quello che è, mi sposto magari sul petrolio, mi sposto sull'oro, mi sposto sull'euro dollaro, sulla stellina, sul bund, ce ne sono una bizzeffa di strumenti. Bene se questo video ti è piaciuto come di conserto metti un mi piace, non mi cambia niente ma è un segno di apprezzamento che naturalmente mi fa piacere. Iscriviti al canale di Quantirica per rimanere aggiornato su questi argomenti e sui video che vado a pubblicare. A questo punto ti auguro un buon inizio settimana, buon proseguimento e buon lavoro da Marcello.